Nell'ultimo periodo ci aveva detto che aveva paura. Ad ottobre era andata a fare la denuncia per stalking, la testimonianza al Corriere della Sera del collega di Vanessa Ballan, la donna uccisa a Riese Pio X, treviso da Bougiard, Fandai, 41 anni, con cui aveva avuto una relazione. Lui veniva qui spesso, magari lo faceva con la scusa di prendere anche solo una cosa. C'erano dei giorni in cui lo vedevamo anche quattro volte in una mattinata. Lei ovviamente reagiva infastidita e nell'ultimo periodo aveva paura, spiega l'uomo impiegato all'Eurospin di Castelfranco Veneto, dove Vanessa lavorava come commessa fino a poco tempo fa, prima di scoprire la gravidanza. Grazie a tutti.